No, mio figlio non può sposarsi con una cameriera. Amalia, stai calma, per favore. Non si sta sposando tuo figlio, si sta sposando Jenny con Raffaele. Ah, credevo che si sposasse Gianpaolo. Anch'io sa, lui, di chi del sapere si chiamava Raffaele. Però è morto. Amalia, ti prego. Povera Jenny. Sembrava quasi che stesse per svenire quando ha detto di svegliere. Tony. Sì? Va in clinica, va a sentire che cosa ha detto il dottor Pereira. Va bene. Ma che cosa c'è? Che cosa è successo a mia fine? No, non è niente, non è niente, zia, devi stare tranquillo. Non è vero, mi stai mentendo. No, non ti sto mentendo. E' mio nipotino, perché non era in chiesa? Non dimentichi che l'hanno rapito. L'hai ritrovato? No. Non capisco cosa possa essere successo. Maria è andata a fare la denuncia. Ci mancava anche il problema di Jenny. Ma come non lo sai, caro? Jenny è andata in cielo. Sì, sì, è andata in cielo. La nostra Jenny è diventata un angelo. Un angelo del Signore, sì. Un angioletto meraviglioso. Un angelo del Signore, sì. Grazie.